A nome della CGL Vercelli Valsesia voglio augurare a tutte quante, a tutte quante, buone feste e buon anno. Abbiamo tutti quanti la necessità di vivere un momento di serenità e di condivisione e contemporaneamente anche di pensare al nostro immediato e al prossimo futuro con un po' più di fiducia. Il periodo all'onomolo con cui conviviamo da un po' di tempo a questa parte ha messo in evidenza una serie di criticità e come organizzazione sindacale abbiamo provato ad impegnarci per poter dare le risposte a tutti quanti. Ci siamo riorganizzati per poter essere in un certo modo presenti nei luoghi di lavoro, per poter dare le risposte tramite i nostri servizi sia ai lavoratori che alle lavoratrici che agli occupati, agli inoccupati, ai disoccupati, ai pensionati e alle pensionate. Per questo io voglio ringraziare tutti quanti quelli che hanno conferito fiducia nell'azione sindacale, nell'azione messa in campo dalla nostra CGL. Voglio ringraziare quelli che ci hanno riconferito mandato e voglio ringraziare anche quei delegati e quelle delegate che nei luoghi di lavoro si sono sombarcati di un lavoro molto importante. Ora, noi pensiamo di poter superare la situazione problematica con cui abbiamo a che fare, ma la vogliamo superare non ritornando alla normalità che prima conoscevamo. Abbiamo la necessità di riprogettare il nostro futuro complessivamente, abbiamo la necessità di pensare ai giovani e abbiamo bisogno di pensare alle donne. Abbiamo bisogno anche di pensare alla questione di carattere ambientale. E' per questo che quando si parla di piano di ripresa e resilienza noi crediamo che questa sia una vera e propria occasione di investimento, ma lo vogliamo pensare in un'ottica completamente differente. Il termine resilienza di fatto si addice bene rispetto ad una caratteristica di carattere fisico, ovvero di un corpo che subisce un murto e non si infrange. Noi invece abbiamo la necessità di pensare in un'ottica completamente differente. Vogliamo configurare quella che è l'ambito sociale e l'ambito opazionale con un termine che può essere comprensivo di tutto quanto. Il termine di sicurezza, ovvero di una sicurezza fatta di un lavoro stabile e di un lavoro di qualità. Il fatto che ci sia uno Stato sociale che dia le risposte a tutti quanti in modo equo e non discriminativo. Abbiamo bisogno di una sanità pubblica, di una scuola pubblica, di un sistema assistenziale e di un sistema previdenziale solidale per tutti quanti. Per questo abbiamo la necessità dell'impegno da parte di tutti quanti, della coesione e dell'intelligenza da parte di tutti. La CGL Vercelli-Valsesia per questo c'è e quindi chiediamo che questo nostro impegno venga accolto da parte di tutti quanti. Con questa occasione io rinnovo gli auguri di nuovo a tutti quanti. Buone feste e buon anno. Grazie ancora.